La rete iniziale di Nicolodi illude la Sandra Bate Avelino che non resiste però alla rimonta della Italservice Pesaro Timonata da Fulvio Colini. La formazione irpina rimedia la quarta sconfitta in campionato, l'ennesima lontana dalle Muramiche. La sfida del Palanino Pizza ha visto l'esordio dal primo minuto di Jonas Pinto Junior. La gara è stata pimpante fin dall'inizio con la rete segnata al dodicesimo appunto da Nicolodi. I padroni casa però pareggiano tre minuti dopo con De Oliveira nel primo tempo e poi allungano le mani sulla partita con Borruto e poi Taborda. Nemmeno l'impiego del portiere di movimento ha dato i frutti sperati al team guidato da Vinicio Comella in attesa del rientro di Marcello Batista. Il 3-1 finale penalizza troppo la prestazione della compagno di Nerpina che si aggrappa al solito Tiago Perez. Sugli scudi, Cozzoline e De Oliveira è recrimina per una gotta occasione sprecata da Kakà che avrebbero potuto cambiare la storia del match. L'Ital Service non ruba niente, anzi si dimostra spietata e cinica e determinato trovando con Borruto e Taborda le chiavi giuste per scardinare la difesa bianco-verde. Una sconfitta che nega la gioia di agganciare il secondo posto in classifica da parte della truppa irpina. Nel prossimo turno di campionato la formazione irpina cercherà il riscatto tra le mura amiche del Pala del Mauro di Avellino contro il Meta Catania, formazione che venerdì sera ha vinto per 8-2 contro il CMB Matera.